Due morti sulle strade salernitane in meno di 24 ore ed il bilancio saleattrese si considera quello avvenuto martedì scorso nei pressi del cementificio di Salerno. Condizioni meteo, disattenzione, condizioni delle strade, sono tante le cause che potrebbero essere alla base di quello che sembra ormai un bollettino di guerra. L'ultima vittima, un 19enne di campagna, morto questa mattina presso l'ospedale Maria Santissima addolorata di eboli, dopo essere rimasto ferito ieri sera in un grave incidente stradale lungo la provinciale a Puglietta. Erano da poco passate le 22 quando il 19enne, Gregorio Esposito, residente a Puglietta, per causa e incorso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito fuoristrada, urtando contro il muro di un'abitazione. Allora ha preso da poco la patente il giovane, la mostra orgoglioso nel suo profilo Facebook su cui iniziano ad arrivare i messaggi di dolore, di incredulità degli amici. Nell'urto l'auto si è capovolta violentamente, il giovane automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il 19enne dal groviglio di lamiere dell'abitacolo. Gravemente ferito, il giovane è stato poi trasportato presso l'ospedale di Eboli, dove purtroppo è morto questa mattina. Il 19enne era studente della scuola agraria di Eboli. Altro incidente mortale sulla strada statale 19, un frontale tra un camion e un mezzo agricolo. A perdere la vita in questo caso è stato Domenico Lamattina, 74 anni, suocero del sindaco Caggianese Giovanni Caggiano e padre dell'assessore comunale Pasquale Lamattina. Anche qui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere. Sulla strada statale 19, tra Oletta e Caggiano, anche l'intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano che era a bordo di un mezzo agricolo è stato travolto dal camion che, dopo aver tamponato un altro altro articolato che lo precedeva, ha invaso la corsia opposta. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo. La mattina era ancora vivo quando è stato estratto delle lamiere immediata la corsa con un'ambulanza del 118 all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove, purtroppo, l'uomo è deceduto.